Perché ho preso questo film? Perché credo che il tema dell'immigrazione e dell'integrazione sia un tema importante oggi e mi interessava vedere il tuo e il vostro punto di vista su questa realtà di oggi. Questo è il motivo. ...questo problema proprio perché vorrei che non fosse più un problema quello delle migrazioni. Sono favorevole alla libertà dei popoli e all'integrazione complessa. In più lavoro presso un centro di accoglienza e di migranti negli ultimi anni ne ho conosciuti tantissimi e auguro a tutti di stare il meglio possibile nel mio paese. L'umanità, specialmente i più poveri e i più niteri. Questo film è un argomento che viene sempre di attività, ultimamente è ancora di più. Per curiosità? Perché sono convinta che il mondo è di tutti e le persone è di nessuno. Quindi non ho confine. Finito. Molto curiosa di vedere cosa racconta. L'argomento è molto attuale, lo sento molto, ma nel senso buono, io non ho niente contro gli immigrati. Perciò voglio vedere cosa ci dice questo regista. Sì, perché sono contraria a tutte le forme di razzismo e ho insegnato italiano agli migranti che hanno chiesto asilo qua a Trieste, provenienti dalla rossa bancarica. Ho conosciuto molte persone, alcune di loro eccezionali. Spero di poter ricominciare a disegnare l'italiano e faccio tanti complimenti al regista e guarderò il film quanto prima e lo farò sicuramente girare. Auguri!